Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il terzo candidato per la provincia di Teramo è Domenico Piccioni, sindaco di Tortoreto, sfiderà il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e Camillo D'Angelo, sindaco di Valle Castellana. Piccioni, appoggiato da Fratelli d'Italia, ha come progetto quello di ricollegare la provincia tra mare e montagna, per ampliare così l'offerta turistica. L'idea della nostra provincia è che debba essere una provincia unica, nel senso tra mare, collina e montagna. Dobbiamo puntare tutto sul turismo, continuando, perché hanno lavorato con questi finanziamenti, di portare avanti la superstrada da Sant'Onofrio ad Ancarano, ultimare il più prima possibile la Teramo Mare con l'uscita a Roseto Giulianova, vedere tecnicamente dove deve avvenire, ma questa deve avvenire il primo possibile. L'altra opera che sta in progettazione, quella da Colledare, che arriva ai prati di Tivo, è importantissima perché deve essere la provincia, una provincia turistica di tutto l'anno. Abbiamo un mare eccezionale, abbiamo questi impianti, speriamo il primo possibile che si risolva questa diatriba lì per l'assegnazione, abbiamo dei borghi eccezionali, Campi, Atri, Civitella, abbiamo il turismo religioso con il santuario di San Gabriele, l'isola del Gran Sasso, ma tutte le altre cittadine con le abbazie che stanno all'interno, a Fano. Teramo è veramente eccezionale, dobbiamo coinvolgere il mare, la collina e la montagna per far sì che torni ad essere veramente una provincia attiva e fiorente. Dopo l'unione dei comuni della Val Vibrata, Piccioni è pronto a mettere a disposizione il suo servizio in provincia. Un servizio, un servizio per la provincia. Io circa due mesi fa sono stato condattato, se ero disponibile, a essere candidato. Avevo avuto l'esperienza bellissima di guidare per due anni l'unione dei comuni della Val Vibrata, dove ho collaborato, essendo stato eletto all'unanimità da tutti i sindaci di qualsiasi colore, e ho collaborato con loro e abbiamo lavorato in modo sinergico e tranquillo. Ho rimesso questa esperienza a disposizione per la provincia di Teramo.